L'ascensore del municipio si è bloccato e per far uscire due coniugi sessantenni rimasti intrappolati all'interno sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, è successo nella sede del comune di Gragnano Trebbiense nel Piacentino, intorno alle 15 di martedì 10 ottobre. Si temeva per le condizioni di salute dell'uomo e della donna tanto che dalla vicina San Nicolò di Rottofreno è giunta anche un'ambulanza, fortunatamente non c'è stato bisogno di alcun intervento sanitario. In molti hanno fatto notare che né sulle pagine social del comune, né su quella del sito istituzionale gli amministratori dell'ente locale, a maggioranza del PD, hanno ritenuto opportuno commentare in qualche modo l'accaduto.